bentornati sul canale di alessia lux questa volta andiamo a fare queste unghiette che vi sono piaciute tantissimo perché sono molto colorate comunque con dei colori pastello c'è questa nota di oro che ci dà questo effetto simil marmo ma non è un effetto marmo e quindi vi è piaciuto tantissimo in questo video vediamo lo smontaggio di queste unghie questo è il degradé che avete visto in diretta perché nell'ultimo video ho sbagliato ho detto che queste qui effetto marmorizzato erano in diretta invece no è il degradé che è in diretta e vi lascio il link su nella i e sotto nell'info box info box che sta sempre nella freccetta vicino al titolo o vicino al titolo c'è scritto altro andiamo a smontare queste unghie che hanno rimaste lucidissime bellissime questo degradé mi è piaciuto tantissimo ed è piaciuto tantissimo anche le ragazze che vengono e hanno fatto in tre consecutive il degradé se ho le foto vi metto le foto perché non stancano devo dire la verità il degradé non stanca poi comunque il mio di degradé era abbastanza colorato nel senso che qui non c'è un vero e proprio degradé che partite da un colore più scuro uno più chiaro e in mezzo fa delle tonalità questi erano proprio cinque colori diversi che come vi ho detto quello di passione è da buttare perché non si stendeva per niente bene e poi comunque dava un po su questo giallino che dal vivo è meno invadente ma in telecamera sembra proprio giallo e quindi non mi è piaciuto tantissimo lo prendo e lo butto e non lo ordinerò mai più perché molte di voi sotto nei commenti ecco perché sono importanti commenti sia per me ma anche per le altre ragazze che leggono anche le altre hanno trovato problemi con questo colore quindi non compratelo comunque tutti i colori stanno sul video in diretta abbiamo smontato con una raptor fascia verde quindi molto aggressiva diciamo la raptor più aggressiva che ho quindi stateci molto attenti come avete visto non ho rimosso vicino al re diciamo alla ricrescita e ho lasciato un pezzettino di colore sono andata a toglierlo con la lima la parte che sto utilizzando adesso è a grana 100 quindi l'andiamo utilizzare solo sull'unghia dove c'è il gel e sulla punta qui ho preso anche in velo spoiler questo il prossimo video sarà uno spacchettamento di shane mio primo ordine da shane quindi vi dirò tutto vi spiegherò un po tutto e se non lo trovate lo trovate nella playlist spacchettamenti insomma lo caricherò a breve quando mi avvicino invece alla lamina ungueale per opacizzare utilizzo l'altro lato della lima che è quella dove c'è la scritta che è una 180 mi raccomando poi pulisco bene con l'alcol isopropilico che ho riordinato quindi in quel video casomai aggiungo anche questo spacchettamento e vado a spostare con il bastoncino d'arancio sapete in questo momento mi stanno piacendo tantissimo i bastoncini d'arancio perché comunque sono più igienici non avete la cosa che dovete comunque sterilizzare e riescono ad alzare molto meglio le cuticole e niente poi vado a prendere una puntina questa è a fiamma e mi alzo tutte le cuticole giro appunto faccio prima a destra e poi a sinistra cambiando i giri della fresa come vi dico sempre metto un bel po di alcol isopropilico prima di prendere le forbicine come sapete questo passaggio per me è molto importante perché la forbice va a tagliare proprio le cuticole morte ma potrebbe anche andare a fare dei piccoli micro taglietti e quindi è molto importante passare un disinfettante proprio prima qui faccio vedere che tutte le altre sono attaccatissime e i passaggi sapete sono sempre gli stessi c'è anche l'ultimo video in cui sempre facciamo le mie unghie con un altro tipo di nail art vi lascio sempre il link su nella i se può interessarvi in quel caso erano sticker e water molto molto carina è l'arte molto fresca ma si può fare anche a versione autunnale utilizzando dei sticker autunnali quindi vi può interessare anche autunnali di halloween di natale il procedimento è sempre lo stesso quello sta la fantasia e sticker che avete attaccare o no decorazioni di varie tematiche san valentino ce ne sono tante pasqua insomma il metodo però è sempre quello quindi può essere utile sempre se avete qualche video richiesta mi raccomando sotto nei conventi fatemi anche io poi piano piano vi faccio tutti i video richiesta qui abbiamo messo una base sempre la fiber di passione che ho il barattolone da 50 poi vado a utilizzare il gel questo è l'ice gel perché comunque qui era ancora estate quindi io in estate utilizzo solo loro perché non bruciano io odio quando le clienti saltano dalla lampada perché gli brucia questo l'avevo un po miscelato tra il cipria e il lattiginoso ho fatto un colore diciamo misto mi avete visto già fare questa miscela e addirittura ci ho messo anche dei micro micro glitter quindi ho rifatto poi sopra al barattolo un piccolo diciamo una piccola goccia di colore per ricordarmi che questo era quello miscelato e quindi è un colore naviette mezzo tra l'altiginoso e il cipria andiamo a fare prima la passata di scivolamento e poi per passare bene da tutte le parti e non mettere troppo prodotto nei laterali e poi andiamo a fare la parte della spina centrale e poi ad aggiungere un pochino di prodotto soprattutto sull'indice perché sul pollice ero riuscita già a tenermi abbastanza prodotto sulla punta sull'indice vado ad aggiungere poco poco prodotto scaricando tutto il pennello proprio solo sulla punta in modo che alla fine quando vado a limare mi rimane un po di spessore che poi andrò a togliere logicamente da sotto con la punta fresa sgrassiamo la dispersione dopo i 60 secondi lampada e poi andiamo a riprendere la nostra lima e andiamo a farci tutta la limatura strutturale qui io ho messo esattamente il gel che mi serviva quindi non è che sarà una limatura chissà di quanto importante perché se riuscite a mettere il prodotto giusto e nella maniera corretta cioè soprattutto nella spina centrale e laterali quasi niente e soprattutto nel giro cuticole quasi niente vi serve solo la limatura per aggiustare insomma la la forma però il prodotto è già stato messo bene soprattutto limate il giro cuticole si deve creare questa discesa che va verso il giro cuticole quindi è importante avere il prodotto al centro dell'unghia se no la discesina non vi viene mi raccomando qui vado semplicemente appunto a rifarmi la forma a controllare la lunghezza dell'unghia sempre con quella lima che al centimetro ho riordinato anche quelle diciamo in legno perché queste mi sono arrivate con lo spessore quello normale delle lime però sempre col centimetro e niente mi controllo appunto che l'unghia sia dritta e non vada verso il basso e che non abbia appunto solchetti e me le guardo anche con la lima messa vicino al giro cuticole in modo che vedo appunto che qui c'era per esempio uno spessore troppo alto nel laterale e quindi andiamo a togliere non lasciamo il laterale col bozzo perché poi quando andate a mettere il colore inevitabilmente si vedrà che da quel lato c'è più prodotto in confronto all'altro quindi passo la lima proprio a 45 gradi per togliere quell'avvallamento che abbiamo mi vado a togliere il prodotto da sotto con la raptor sempre e perché così mi rendo conto del dello spessore anche da sopra in modo che vado a vedere definitivamente come sarà la mia unghia perché sennò finché non togliamo da sotto non mi rendo conto benissimo di come sarà l'unghia finale quindi continuo a limare a limare magari poi sbaglio invece perché andiamo ad assottigliare troppo il prodotto e poi si spezzerà nel punto b il punto a vado a passare poi un buffer questo a boomerang questo era della ditta amlick non so come pronunciarlo ve lo scrivo è molto molto carino erano i poli gel quando riprendo in mano questi buffer a boomerang poi me ne rinnamoro quindi penso che li riordinerò ce l'ha anche ai beauty sarto pulisco bene mi rendo conto insomma delle discromie questo è un problema di chi usa gel diversi colori diversi infatti con le clienti cerco sempre di utilizzare lo stesso gel giri bassi per la punta e vado solo un attimino a pulire con questa punta come la definiamo questa punta appena sentite giri bassissimi non voglio creare buchi nel gel voglio solo un po troppo poco voglio solo alzare di più devo trovare le cuticole sto cercando ma se li fanno pagare tantissimo lì ho visto io il push in porcellana o in vetro in modo che scusate sbatto sempre sulla telecamera in modo che non mi cade poi pulisco bene di questo qua sotto si sa mai questo che sono tonalizzanti ho detto io adoro tonalizzanti è il 52 di venalisa da solo una leggerissima colorazione più chiara non rende un po più lattiginosa e omogenea non so se riuscite a percepire perché queste discromie non le sopporto io vi ho lasciato un pezzo dell'audio originale del video lo farò anche nella seconda parte perché divido il video nella prima parte che è la fase diciamo di refill e anche di colore perché volendo queste unghie possono essere lasciate così perché questo colore è fantastico veramente se cercate comunque un colore che non costa un occhio della testa e che serve per per dare questo tono molto naturale all'unghia e questo è proprio bello infatti al prossimo ordine venalisa lo rinserirò perché comunque mi piace troppo ho anche la versione glitterata vi lascio il link anche dello spacchettamento venalisa così potete vedere tutti i colori che ho di questo brand e niente io vi mando un bacione vi aspetto alla seconda parte appunto che è solo la nail art perché così anche nelle playlist è tutto più ordinato abbiamo la parte refill che è ricostruttiva e la parte nail art nella playlist nail art vi lascio le foto di altri video sul mio canale spacchettamenti appunto ricostruzioni e nail art e niente venitemi a trovare se vi va di iscrivervi iscrivetevi e se vi va di lasciarmi un like e un commento io lo sapete sono sempre molto felice vi mando un bacione al prossimo video ciao d'alessia lux